Ciao, ho preso il nuovo mini album dei MyTeen, questo è il davanti, questo è il reto, qua abbiamo le canzoni, ecco c'è un buco misto, ho un problema logistico, signori, c'è il buco del puzzle, allora, plastica, via, così, facciamo quel photobook, ok, vanti dietro, che belli questi colori pastello, wow, ok, 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 ok sono bellissime queste foto un bel oppure Grazie a tutti. Capiamo le canzoni. Questa qua è stupenda. Ma è bellissimo sto photobook. Veramente molto bello. Allora adesso. E' bellissimo anche questo chiedevi. Che patatino. Allora almeno una faccia. Poi abbiamo gli sticker. Poi abbiamo la photocard. E per finire il città. Ciao. Ciao. Ciao.